ciao ragazzi siamo tornati con l'incarico codice dei pirati se non vedere tutti velocissimamente sono abbastanza semplici sconfiggi un boss e allora i boss sono uno al nitrodromo uno spiaggia aspettata una pozzo purpureo per evocare quello del nitrodomo dovete toccare gli oggetti che sono ai quattro angoli della pista mi sembra che su quattro cerchi gli altri non sono mobili e c'è solo non sono fissi quindi ogni tanto scappano di fatti uno è qua e l'altro è qua solo questi così qua che questi simboli qua che vedete sulla mappa sono i boss e sconfiggite uno non va affatto per forza il singolo che si fanno in coppia interzetti ogni scuola distrugge no distruggi nove falsi pezzi da otto sull'isola sono questi oggetti qua tre a piazza piacevole terra tra a tana grande ghiacciaio basta rompere questi oggettini le piccolate sono degli oggetti casuali che trovate sulla mappa poi abbiamo vediamo l'altra missione raccogli una prova della vittoria del giocatore eliminato da poi eliminate un giocatore chiara corona e la raccogliete sconfiggi un personaggio duellante con una pistola l'armada mischia cupo cancello e campi canidi sono gli unici due posti che hanno l'npc che si può sfidare le armi da mischia sono il pompa o il piccone e potete usare anche una pistola ragazzi vi consiglio una pistola o il piccone perché con il pompa me non l'ha contata quindi ci parlate con cerbero vi chiede se volete sfidare a due erlo fate sì e lo sconfiggete con una un'arma da mischia appunto oppure con una pistola poi abbiamo distruggi vari di succo supposo questi qui per esempio quelli nitro o quelli schiapposi attirate qui a secchi ragazzi ne sono direttamente 10 lo potete fare anche questo in squadra in singolo in coppia interzetti quindi lo fate immediatamente potete fare anche il comando con le costruzioni buttando sotto con la macchina e poi abbiamo e basta complete incarichi codici dei pirati sempre ottenere oro maledetto si completano facilmente ragà non fatevi ingannare dalle parole perché sono davvero semplici nel corso per supportare il canale il codice creatore sempre attivo ragazzi è usato mi raccomando taggatemi ciao ciao